Sono Gioele Amaro, un artista digitale italiano e questa è la mia collaborazione con la Maison Valentino. Sono stato un architetto, un designer e ora un pittore. La mia identità è rimasta e rimane la stessa, è il mezzo che cambia. Ho immaginato questi quadri come degli specchi che non riflettono davvero chi sta davanti, ma solo il contesto. Ho iniziato a lavorare con la Maison Valentino per una mostra in Cina. Essere invitati a mostrare il proprio lavoro in un museo o in una galleria è sempre un onore, ma la collaborazione con l'identità creativa in sé a volte è ancora più lusinghiera e stimolante. Parigi respira ancora l'aria degli artisti più rilevanti del XX e XIX secolo, per il cinema, l'arte e la moda. Vivere la città è una sfida culturale, non serve altro. E per questo progetto ho avuto la possibilità di mettere insieme arte, architettura e moda. Nel mio lavoro i colori sono veicoli di sentimenti e destinatari di emozioni. Per me il Pink PP evoca una passione intensa, un amore profondo e una vibrante audacia. Tutte qualità che cerco di incorporare nel mio lavoro. Il billboard che ho creato per Valentino in Avegnu dell'Opera in realtà non è affatto un billboard. Lo considero un dipinto molto grande per un edificio molto grande, un vestito per il palazzo stesso. Ho avvolto e drappeggiato la mia arte tutta attorno. Questo rosa non sta solo sullo sfondo, ma prende il palco principale e rifiuta di essere ignorato. Ammiro questa audacia ed è qualcosa a cui aspiro nella mia creazione artistica. Inoltre vedo questo colore come una vera firma del marchio Valentino, che ricorda costantemente il loro impegno per l'individualità.